Ragazzi, colpaccio del Milan, dopo Cafor, arriva l'accordo finale anche per Ciucu Eze Adesso ne parliamo, ne parliamo, intanto benvenuti in questo nuovo video, bentornati sul mio canale Vi ricordo prima di partire di lasciare mi piace al video per supportare al massimo il canale Iscrivervi e attivare la campanellina per non perdervi tutti i prossimi nuovi video E poi in descrizione, come sempre, trovate i link agli altri social Come dico sempre, su Instagram lì vi do notizie, novità, spoiler importanti che eravano prima di tutti gli altri social Ciucu Eze già, lì ne abbiamo parlato per esempio E insomma, seguendomi là capirete perché lì faccio anche i sondaggi e tutto quanto Quindi vi aspetto su Instagram Però il video non è dedicato a Instagram ma all'arrivo di Ciucu Eze al Milan Allora, voglio sapere anche prima di partire se vi piacciono questi video parlati Ovviamente sul Milan in questo caso ma cerco di portarne anche altri se vi piacciono Fatemelo sapere e ora partiamo ufficialmente Allora, Ciucu Eze al Milan Partiamo dalle cifre Sono 20 milioni di base fissa che vanno al Villareal Con bonus che sono circa 8 milioni Quindi Villareal può raggiungere una quota di circa 30 milioni E il giocatore firma un contratto di 5 anni fino al 2028 Questo è l'accordo che è stato trovato tra Milan e Villareal per l'arrivo di Ciucu Eze Siamo su queste cifre Parliamo di queste cifre qua E secondo me è una cifra giusta Perché vai a pagare un giocatore appunto 20 milioni adesso Nel senso di base fissa E poi bonus legati adesso precisamente non so a cosa Però saranno gol, presenze o traguardi di squadra Vedremo, ne capiremo di più E te lo giudichi per 5 anni questo giocatore Per il primo contratto di 5 anni E parliamo di un giocatore giovane Classe 99 Quindi insomma Nel pieno, nell'arco della sua carriera Adesso ha bisogno di fare quel salto di qualità Che forse con il Milan rispetto a Villareal Comunque arriva con tutto il rispetto per il Villareal Ed è un giocatore che sulla fascia destra Ci fa fare quell'upgrade che ci serviva Perché noi passiamo da Messias a Salemekers A Ciukwese Che con tutto il rispetto per Messias e Ciukwese E Salemekers, scusate Non è la stessa cosa È un giocatore diverso Proprio anche per caratteristiche In realtà poi a prescindere che sia più forte o meno di qualcuno Per caratteristiche è diverso Adesso bisogna anche capire questo Il Milan davanti si presenta con tanti giocatori Quindi bisogna capire chi gioca Perché tu in quel reparto hai Ciukwese Luca Romero Hai Pulisic Hai Leao Hai Giroud Colombo Poi hai ancora Orighi De Keteler Rebic Orighi e Rebic probabilmente andranno via De Keteler Io mi auguro di no Spero che questa stagione rimanga Però chi gioca Della parte è meglio che il mister Pioli abbia questi problemi Perché tu fai giocare Se giochi 4-3-3 Leao, Giroud, Chukwese Ipotetico, ok? Entrano Okafor e Pulisic Giochi 4-2-3-1 col trequartista Gioca Pulisic insieme ai tre che ho già detto Bene, entra Okafor Insomma C'è Luca Romero Ci sono le alternative E questa secondo me è una cosa buona E anche da qua Con questi acquisti che arrivano Con il discorso che avevo fatto già con Okafor Bisogna capire poi In che modo gioca il Milan 4-2-3-1 4-3-3 Lo capiremo In queste prime minchie Vi è stato provato 4-3-3 Che sembra comunque interessante Però Sono cose che vedrà il mister E secondo me è meglio avere questi problemi Piuttosto che come nelle ultime stagioni Dicevamo Non c'è quello Non c'è quello E non sappiamo chi far giocare In questo momento tu vuoi far riposare qualcuno Lo puoi fare Te lo puoi permettere Per quanto riguarda Ciocuese Appunto tu Sulla destra Hai fatto questo upgrade C'è anche già Luca Romero Ci può giocare Pulisic Ci può giocare all'evenienza Leao Ci possono giocare in tanti Però Adesso cosa succede? Messias e Selemekers Vanno via? Per me Messias va via Sicuramente O comunque almeno uno di due va via Io Terrei Selemekers Perché è più giovane Non perché Messias Sia Molto più scarso O molto più forte Selemekers Ma semplicemente Per una questione di età Poi Messias È vero che lo vendi a poco Se vuoi far cassa E meglio vendere Selemekers Però poi sono questioni Che deve fare il Milan Intanto noi ci godiamo Questo colpo Ciocuese Che secondo me È un colpo interessante La domanda che mi pongo Che forse si possono porre Un po' tutti i milanisti Non è tanto il chi gioca Perché come ho detto È un problema fino a un certo punto Perché è meglio avere le alternative E comunque Avere giocatori che Anche se non partono titolari Che poi non è detto Che devono giocare sempre I stessi undici Magari giocano Leao, Girou, Suque Una partita Entrano appunto Pulisiciocafor Cioè hai delle riserve Che non sono riserve In realtà sono titolari E quindi Ti alzano il livello Anche a partita in corso E questo è importantissimo Però Quello che penso Magari non siamo Un po' troppo offensivi Con questi Poi qualcuno Deve pure difendere Quindi anche questo Mi fa pensare Giocheranno tutti Contemporaneamente Io non lo so Non lo so Se giocheranno tutti Contemporaneamente Sicuramente no Perché non possono giocare In 5-6 Contemporaneamente Giochi senza difesa Centrocampo Però anche giocare Eventualmente Leao Pulisic Ciocuese Ocafor insieme O Girou Probabilmente Si vedrà a volte Non lo so se sempre Però io Preferirei un 4-3-3 Personalmente Con anche appunto Questi giocatori Che tu hai in panchina Da fare entrare A gara in corso Perché secondo me Meglio giocare Con Leao Pulisic Ocaforo Leao Ciocuese Girou Chi gioca Gioca E poi entrano gli altri Secondo me è meglio Perché spezzano Il ritmo di gioco A gara in corso Però ecco ripeto Sono scelte Che deve fare il mister Io sono soddisfatto Di questo colpo È un colpo Che ci fa fare un upgrade Pagato Secondo me il giusto Non strapagato Neanche pagato poco E insomma Sono contento Di questo mercato Che sta facendo il Milan Che Ha chiuso i colpi Già questi Molti prima di partire In turnare negli Stati Uniti Ocaforo Ciocuese Ancora no Ma va bene Sono due Però ha preso Giocatori presto Non con l'anno scorso Che comunque faranno Tutta o quasi tutta La preparazione atletica Con la squadra E arriveranno A inizio Campionato Pronti Cioè già con il gruppo Che si allenano da un mese Poi ovviamente Non tutti lo possono fare Non tutti i colpi Possono arrivare prima Però questa cosa Secondo me È importante E mi piace Come si sta muovendo Il Milan sul mercato L'anno scorso per esempio Sono arrivati quasi tutti Tipo De Kedre Era alla fine E poi il tempo Che ti ambienti Tutto Beh poi De Kedre Era un caso a parte Tutto l'anno Ok Però avete capito Il concetto E quindi niente Io sono contento Mi piace Ripeto come si sta muovendo Il mercato del Milan E niente Vedremo Tireremo le somme A fine mercato E poi a fine stagione Intanto ci godiamo questo Non bisogna esaltarsi Calma Però vediamo Insomma La fiducia c'è Vedremo Io adesso aspetto Più di tutti Un vice teo Anche perché Ballotore è prossimo L'accessione Quindi vedremo Io ragazzi Intanto Spero che il video Vi sia piaciuto Questa è la mia Su Ciuquese Sul Milan in generale Sul mercato che sta facendo Vi invito Come dicevo prima A lasciare un mi piace al video Iscrivervi al canale E vi aspetto anche Gli altri social E niente Fatemi sapere Se questi video vi piacciono E noi ci vediamo alla prossima Ciao ragazzi E anzi E anzi Fatemi sapere anche cosa Ne pensate Voi di Ciuquese E di questo mercato Del Milan Grazie a tutti